buongiorno ragazzi siamo al 23 dicembre qui a tricaseporto nel salento sembra veramente tutto molto irreale ma è così ora andiamo a fare un bel bagno guardate che spettacolo qui abbiamo i babbi natali babbo natale e la babba natale ora facciamo un bel bagno un saluto ragazzi da questo posto paradisiaco veramente ciao raga